Pierpaolo Pasolini Acculturazione e acculturazione Molti lamentano, in questo frangente dell'austerity, i disaggi dovuti alla mancanza di una vita sociale e culturale organizzata fuori dal centro cattivo, nelle periferie buone, viste come dormitori senza verde, senza servizi, senza autonomia, senza più reali rapporti umani. Lamento retorico. Se infatti ciò di cui nelle periferie si lamenta la mancanza ci fosse, esso sarebbe comunque organizzato dal centro. Quello stesso centro che in pochi anni ha distrutto tutte le culture periferiche dalle quali, appunto, fino a pochi anni fa, era assicurata una vita propria, sostanzialmente libera, anche alle periferie più povere e addirittura miserabili. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari, contadine, sottoproletarie, operaie, continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli. La repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati, la biura è compiuta. Si può dunque affermare che la tolleranza della ideologia edonistica, voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare dalla repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all'organizzazione borghese, la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema di informazioni. Le strade, la motorizzazione, eccetera, hanno ormai strettamente unito la periferia al centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema di informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto, cioè, come dicevo, i suoi modelli, che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un uomo che consuma, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione. Il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che omologava gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale omologatore, che è l'edonismo di massa. E, come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c'è infatti niente di religioso nel modello del giovane uomo e della giovane donna, proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi beni di consumo. E si intende vanno ancora a messa la domenica, in macchina. Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello, che la televisione impone loro secondo le norme della produzione creatrice di benessere, o meglio di salvezza dalla miseria. Lo hanno accettato, ma sono davvero in grado di realizzarlo? No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventando nella caricatura o non riescono a realizzarlo che è in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia neurotica sono ormai stati d'animo collettivi. Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria ignoranza, anzi erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti, in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i figli di papà, i piccoli borghesi, da cui si dissociavano anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi della propria ignoranza. Hanno abbiurato dal proprio modello culturale, i giovanissimi non lo ricordano neanche più, l'hanno completamente perduto, e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari, umiliati, cancellano nella loro carta d'identità il termine del loro mestiere per sostituirlo con la qualifica di studente. Naturalmente, da quando hanno cominciato a vergognarsi la loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la cultura, caratteristica piccolo-borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi. Per tempo stesso, il ragazzo piccolo-borghese, nell'adeguarsi al modello televisivo che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale, diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletalizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio uomo, che è ancora in loro, di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in quanto mezzo tecnologico, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Non c'è dubbio, lo si vede dei risultati, che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere, come con dolore, l'arato rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo la scalfita, ma la lacerata, violata, bruttata per sempre.